Acerbo, Rifondazione Comunista ha presentato nei giorni scorsi un dossier sulla gestione dei rifiuti nella nostra regione. Cosa è emerso e cosa è scritto in questo dossier? Noi siamo molto preoccupati perché la regione Abruzzo con molto in ritardo soltanto a dicembre aveva avviato la valutazione ambientale strategica sul piano regionale dei rifiuti che va adeguato alle direttive europee. Siccome abbiamo appreso con una nostra inchiesta che la DECO ha commissionato una società, la Genia SRL, uno studio relativo a come riorganizzare l'assetto della raccolta dei rifiuti dello sbaltimento in Abruzzo, il dubbio ci viene sia perché il privato ha commissionato questo studio ma anche perché abbiamo notato che i fondi FAS che erano stati stanziati anche su nostra pressione, anzi soprattutto, nella precedente legislatura, per realizzare questa impiantistica pubblica sono stati tutti stornati dall'Aggiunta d'Alfonso. Quindi, facendo una sintesi, che cosa accade? Che se gli impianti pubblici non ci sono, il pubblico nelle province di Pescara, Teramo e Chieti non potrà che rivolgersi al privato e che la sospensione del piano serva proprio a questo. Ovviamente attendiamo che i nostri cupi presaggi siano smentiti dal governatore D'Alfonso o dal sottosegretario Mazzocca. Lunedì speriamo che nel Consiglio regionale si faccia luce su questa vicenda che sinceramente suscita molte molte perplessità. Non vorremmo che, finiti a Tarallucci e Vino i processi, si ritorni all'antico.